benvenuti in questo nuovo video realizzato come sempre da tb groom oggi assieme alla badlington terrier meddy scopriremo l'efficacia della nuova linea tick and ticker che ci aiuterà ad ottenere e mantenere la tessitura ed il volume essenziali ai fini della riuscita della toletatura e del look finale di questo cane dopo averlo bagnato con abbondante acqua tiepida andremo a cominciare con il primo trattamento tick and ticker thickening shampoo un prodotto rinfortante idratante e che donerà volume al mantello del nostro cane dopo averlo distribuito su tutto il mantello aspettiamo che il prodotto venga assorbito maggiore sarà il tempo di posa e maggiori saranno gli effetti benefici sul mantello sciacquato completamente questo primo prodotto potremo passare al secondo trattamento andiamo quindi ad utilizzare tick and ticker volume response forming protein le sue caratteristiche riparanti e protettive lo rendono un prodotto assolutamente indispensabile per il mantenimento del cane sia da esposizione che da compagnia la nuova linea tick and ticker adatta a moltissimi tipi di mantello le procedure sono sempre le stesse è consigliabile però nei mantelli più lunghi l'utilizzo di una spazzola per permetterci di distribuire al meglio il prodotto dalla radice alle punte e come sempre i tempi di posa sono essenziali per la riuscita del risultato finale quindi dopo aver aspettato qualche minuto procederemo con l'applicazione del condizionatore tick and ticker thickening conditioner ha un'azione volumizzante rinforzante e idratante quando utilizziamo un prodotto è consigliabile utilizzare sempre la stessa routine come ad esempio cominciare dalla testa muso cranio orecchie continuare sul collo linea dorsale fino alla coda e poi scendere sulle zampe prima anteriori poi posteriori adoperando sempre lo stesso metodo di applicazione saremo sicuri di distribuire sempre il prodotto su tutto il corpo del cane senza dimenticarci di alcuna parte ed anche stavolta per un'ultima volta dopo qualche minuto di attesa potremo procedere al risciacquo finale fatto questo potremo rimuovere prima l'acqua in eccesso con le mani prezionando bene il pelo e poi utilizzare un asciugamano in cotone o un panno in microfibra per eliminare eventuale acqua ancora in eccesso presente sul cane ricordiamoci sempre che l'asciugamano o il panno va utilizzato tamponando e non strofinando questo sia per non danneggiare il pelo sia per non rischiare di creare eventuali piccoli nodi e ora è il momento di passare all'asciugatura personalmente preferisco sempre cominciare con il cane ancora nella vasca per non creare troppa umidità all'interno della stanza e per raccogliere meglio l'acqua in eccesso che ancora uscirà dal mantello del cane su un pelo corto come questo comincio con un soffiatore a velocità alta impostato sul caldo passandolo prima su tutto il corpo in modo generale per permettere al cane di non infreddolirsi troppo e poi proprio come si fa per l'applicazione dei prodotti si consiglia di andare a zone assicurandosi di asciugare completamente e senza lasciare umida alcuna parte del cane quando utilizziamo dei soffiatori o dei phon è importante mantenersi sempre in movimento rimanere troppo a lungo sulla stessa zona con un oggetto d'aria molto caldo potrebbe rischiare delle leggeri ustioni sulla cute del cane a metà asciugatura vaporita del tick and ticker leave in un prodotto altamente volumizzante dalle capacità anche rinforzanti e protettive completo l'asciugatura sul tavolo con l'aiuto di un phon e di un cardatore spazzolando in tutte le direzioni per velocizzare il procedimento ricordiamoci che il cardatore va utilizzato sempre con leggerezza per non graffiare la pelle del cane quando sarà completata l'asciugatura e non sarà rimasta alcuna traccia di umidità sul mantello potremo passare alla toilettatura è veramente soddisfacente notare come questi prodotti abbiano donato al mantello volume e corpo senza però perdere l'importante caratteristica della pettinabilità vediamo infatti da questa inquadratura come il pelo si mantiene retto con una semplice pettinata senza assolutamente risultare colloso o difficile da lavorare testine e forbici lavorano senza intoppo sul pelo appena trattato e la toilettatura su un pelo ben condizionato è sempre estremamente molto più semplice da realizzare ricordiamo ancora una volta che questi prodotti non solo migliorano la tessitura del nostro cane donando volume e corpo ma inoltre lo nutrono e lo proteggono sono quindi consigliati non solo per i bagni pre show ma anche se non soprattutto per quelli di mantenimento e come possiamo vedere il risultato finale parla assolutamente da solo il pelo dopo un solo trattamento è come rinato se asciugato in un attimo è stato facilissimo da spazzolare e da pettinare e ciò nonostante è ancora voluminoso sempre più tolettatori professionisti utilizzano e apprezzano la nuova linea tick and ticker viene grazie per averci seguito anche questa volta e arrivederci al prossimo video un saluto anche da maddi